Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Transformer United 1-01. Prodotto da Takara Tomi nome di prodotto modo Transformers United 1-01 Optimus Prime Cybertron. Obiettivo genere ragazzo et da 5 anni. Paese di produzione Cina. Tomi. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazoniti, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.